Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, tante le notizie che riguarderanno la cronaca, ma anche la politica, come sappiamo il 2024 è un anno caldo in vista delle elezioni, di diversi appuntamenti elettorali, quindi sta sempre più entrando nel vivo questa corsa politica che riguarda la città, ma in questa edizione parleremo anche di ludopatia, una ludopatia che riguarda l'abuso del gioco d'azzardo, vedremo cosa è stato organizzato per prevenirla nel ferrarese. Poi spazio ai bambini, è un progetto educativo molto interessante che riguarda il comune di Ferrara e poi tanto sport in questa edizione perché sono giornate e ore importanti per i colori bianco-azzurri per quanto riguarda la SPA, l'atteso dal derby con la capolista Cesena, ma anche per quanto riguarda il basket e il volley, è un fine settimana dai diversi significati. Ma torniamo sulla vicenda che coinvolge il ferrarese, noto critico d'arte, nonché sottosegretario del Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi, anche presidente della Fondazione Ferrara Arte, che da giorni al centro di una questione legata all'indagine, soprattutto legata a un quadro di sua proprietà, sono state perquisite venerdì le case di Sgarbi ed è stato sequestrato il quadro. Sentiamo. Sequestrato dai carabinieri il quadro attribuito al pittore del 600 senese, Rutilio Manetti, al centro dell'inchiesta che vede il sottosegretario della Cultura Vittorio Sgarbi indagato per riciclaggio di beni culturali. Dopo l'iscrizione qualche giorno fa del fascicolo a carico del critico d'arte da parte della Procura di Macerata, l'accelerazione degli inquirenti con la perquisizione di vari domicili di Sgarbi e il sequestro del dipinto da parte del nucleo tutela patrimonio, il sottosegretario ha consegnato spontaneamente l'opera. Sono sereno il sequestro è un atto dovuto, commenta Sgarbi, il quale dice di non aver nulla da temere e che si difenderà con ogni mezzo, con chi specula sulla vicenda e chi se ne rende complice. Al centro del caso la tela seicentesca di grosse dimensioni, provento di un furto nel castello di Buriasco nel torinese, denunciato dalla proprietaria quasi undici anni fa. L'accusa per Sgarbi è aver compiuto sullo stesso dipinto, in concorso con persone ignote, operazioni finalizzate ad ostacolarne la provenienza delittuosa, facendovi inserire in alto a sinistra della tela una torcia, attribuendo l'opera al pittore Manetti e affermando la titolarità del quadro. Lo riporta la nota degli investigatori, Sgarbi afferma di averlo rinvenuto in un immobile acquistato dalla fondazione Cavallini Sgarbi, un'opera che poi venne esposta nel 2021, presentata come un inedito di Rutiglio Manetti a Lucca nella mostra curata da Sgarbi. E ora parliamo di sicurezza stradale, perché nel 2023 nel Ferrarese si sono registrati tre pedoni uccisi sulle strade estensi e questo quanto emerge dall'osservatorio ASAPS, secondo cui la Romagna è il territorio italiano più sicuro per i pedoni. Sono tre i decessi registrati nel Ferrarese nel 2023, vittime tra i 71 e gli 84 anni, tutte tre sono decedute e investite da un'auto, come rileva l'ASAPS, l'associazione sostenitori della polizia stradale. La Romagna è il territorio più sicuro per i pedoni. L'anno scorso le vittime sono state 440 in Italia, di cui 37 in Emilia Romagna, ma nessun pedone è stato ucciso sulla strada a Forlie e Cesena. Una sola vittima si è registrata in provincia di Ravenna e due nel Riminese e si tratta dei soli morti nell'immediatezza del fatto, cui fa seguito il calcolo dei decessi delle persone ospedalizzate. L'ASAPS, che ha sede a Forlie, azzarda alcuni possibili motivi di questo primato della Romagna, come i passaggi pedonali protetti da isole di sicurezza centrali e illuminati, che permettono l'attraversamento in due fasi e favoriscono soprattutto gli over 65, che a livello nazionale sono stati la maggioranza delle vittime. Poi merito, dicono da ASAPS, nella polizia locale e nella polizia stradale, concorsi di educazione e nelle scuole e controlli sulle strade, aggiungono dall'associazione che auspica come il trend della Romagna, prosegua e si estenda ad altre province del territorio nazionale. Ora parliamo di politica, ma anche di libri e di ambiente. Lo scrittore e giornalista Francesco Giubilei è autore del libro Follie ecologiste, un testo che sostiene che l'ambientalismo abbia assunto negli ultimi anni un taglio radicale. L'autore è stato ospite di un incontro pubblico che si è tenuto nella sede ferrarese di Fratelli d'Italia. Lo abbiamo intervistato. Francesco Giubilei è autore del libro Follie ecologiste, presentato oggi presso la sede di Fratelli d'Italia Ferrara. Che cosa sono queste Follie ecologiste? Sì, intanto ringrazio l'assessore Balboni per l'invito, è un piacere tornare a Ferrara. All'interno di questo libro Follie ecologiste cerco di raccontare alcune follie che sono state portate avanti negli ultimi anni, in particolare dall'Unione Europea ma non solo, legate al tema dell'ambiente, che è un tema che non ha colore politico, che è stato però evidentemente ideologizzato negli ultimi anni ed è stato legato anche a una serie di fenomeni come per esempio l'ultima generazione che ha imbrattato monumenti, ha deturpato palazzi, ha bloccato le strade portando avanti una visione ambientale da cui ovviamente ci discostiamo. Che cosa contesta particolarmente delle teorie, diciamo, che vengono maggiormente evidenziate oggi? Ma anzitutto un approccio anti-umano, quindi contrario all'uomo, come se l'uomo fosse un nemico, un avversario della natura, quando in realtà già nella Bibbia si spiega come uomo e natura facciano parte dell'unico grande insieme che è il creato e poi nella fattispecie, questo è un punto di vista più culturale, da un punto di vista invece politico, le direttive che sono state portate avanti all'Unione Europea, in particolare la direttiva sulla Casa Green, che in parte fortunatamente è stata rivista e invece la direttiva approvata sullo stop al motore endotermico nel 2035, sono senza dubbio delle politiche che vanno contro le esigenze, anzitutto dei cittadini più deboli, ma anche contro le esigenze del nostro tessuto imprenditoriale, economico, rischiando di fare un favore alla Cina. In merito a fenomeni estremi a cui a volte assistiamo, qual è la sua teoria, la sua tesi in merito? Guardi, parlo anche da Romagnolo e da Cesenate, voi come sapete Cesenia è stata una delle città insieme a Faenza più interessate dalla tragica alluvione della scorsa primavera, bisogna agire sotto due punti di vista, c'è un tema di un fenomeno che è stato un fenomeno inusuale da un punto di vista di quantità di precipitazioni, ma c'è un tema di prevenzione, bisogna fare più prevenzione, in particolare bisogna cercare di lavorare sulla cura degli argini, cosa che non sempre è avvenuta e in secondo luogo la necessità di realizzare delle opere che sono necessarie e che un ambientalismo del no a tutto blocca, penso alle vasche di laminazione, se fossero state fatte le vasche di laminazione nel territorio del Fantino avremmo probabilmente avuto delle conseguenze minore rispetto a quelle che invece sono avvenute. Assessore, oggi una visione dell'ecologia forse un po' diversa rispetto a quella che viene disegnata abitualmente, ecco perché questa presentazione del libro? È necessario fare capire che la cultura dell'ecologia fa parte anche della cultura della destra, quindi noi siamo rappresentanti di Fertelli d'Italia, siamo rappresentanti di un'idea conservatrice, ma proprio per questo siamo grandi amanti della natura e la difendiamo e penso che questa passione, questo amore per la natura sia stata anche trasmessa dal lavoro che abbiamo svolto come amministrazione comunale e dal mio impegno personale come assessore all'ambiente, quindi sicuramente trasmettere a future generazioni ciò che è stato tramandato dai nostri nonni e dai nostri genitori è un valore imprescindibile e quindi saper declinare in una chiave moderna e che sappia coniugare il lavoro e la sostenibilità è una sfida tra le più importanti e tra le più contemporanee. Ecco, un commento su questo libro, un libro che ridisegna tra virgolette quelle che sono certe teorie, diciamo sposa anche quello che è la linea di Fratelli d'Italia? Ma diciamo che oggi la sinistra si diverte davvero a neerci delle etichette che sono sbagliate, quindi la sinistra vuole che la destra sia anti-ecologista, che sia contro ripesa dell'ambiente, vuole che la destra non abbia delle persone in grado di poter produrre cultura e quindi in questo caso Giubilei ha saputo smentire entrambe le tesi in un sol colpo. A destra c'è cultura, a destra c'è passione per l'ambiente e soprattutto c'è un approccio verso queste tematiche che è concreto e non è ideologico. Questo vuol dire che le soluzioni che abbiamo visto proporre in Europa o anche dal governo negli anni passati sono semplicemente strumenti di propaganda o di ideologia che nulla a che fare con il mondo reale, il mondo della produzione, del lavoro e anche dell'industria. Giovedì prossimo alle 17 al Circolo Negozianti del Palazzo Roverella, Ferrara Cambia ricorderà lo scrittore e poeta Roberto Pazzi, recentemente scomparso, un'iniziativa che vuole mostrare un ritratto personale non solo dell'autore ma dell'uomo raccontato dalle persone che a lui sono state più vicine, dicono, dall'associazione che ospiterà nel corso dell'incontro anche Dacia Maraini, amica di vecchia data di Pazzi, che interverrà in diretta streaming con una testimonianza inedita. E ora parliamo di gioco d'azzardo e ludopatia in arrivo in provincia di Ferrara, gli spettacoli per la prevenzione del disturbo. L'equip disturbo da gioco d'azzardo del servizio di pendenze patologiche dell'azienda ASL di Ferrara organizza a gennaio e febbraio eventi di informazione e sensibilizzazione sulla tematica del disturbo del gioco d'azzardo e dei rischi dell'online. Nell'argentano a Consandolo verrà messo in scena lo spettacolo teatrale All'alba vincerò della Compagnia Teatro dei Sentieri nella sala civica il 17 gennaio. Il 31 gennaio lo spettacolo si terrà a Santa Maria Codifiume sul palco del centro La Confina e poi sarà il momento di Argenta al Piccolo Teatro il 7 febbraio. Nel comune di Poggio Renatico andrà in scena lo spettacolo Truffati, spettacolo su raggiri, inganni e altre catastrofi. Al centro sociale Noce il 17 gennaio la partecipazione a tutti gli spettacoli è gratuita e al termine degli eventi saranno presenti esperti dell'azienda ASL di Ferrara per un dibattito aperto alle domande del pubblico. È in fase di avvio nei servizi educativi del comune di Ferrara il progetto dedicato ai bambini di 5 anni il viaggio di Calombrone, un piccolo alieno che accompagnerà i bambini in una serie di esperienze che saranno realizzate nelle scuole. Da lunedì il progetto sarà presentato a tutte le famiglie. Si tratta di laboratori pomeridiani a partecipazione libera e che andranno avanti fino a maggio con attività ed esperienze che mirano a sviluppare competenze specifiche come il linguaggio, la motricità, l'attenzione e l'autoregolazione emotiva anche per accompagnare i bambini nel passaggio dalle scuole di infanzia alle scuole elementari. Però le competenze prima elencate sono state minate, come detto in conferenza stampa, in comune venerdì, dagli strascichi lasciati dalla pandemia agli ultimi tre anni in cui sono aumentate. Fragilità e incertezze quindi è stato detto in comune c'è bisogno di fare questi progetti per i bambini. E ora passiamo allo sport con la SPAL, sfida alla capolista di Serie C e derby con Cesena domenica sera allo Stadio Mazza, una partita che potrete seguire con aggiornamenti e commenti, con match in diretta qualche minuto prima delle 20.45 su Telestense. Rispettiamo Cesena ma a volte la classifica è bugiarda, ha detto l'allenatore biancoazzurro Colucci, che sentiamo nel pre-partita. Ci sono 29 punti di differenza, noi la partita la settimana l'abbiamo preparata bene, valutando qual è la forza del Cesena, sta facendo un campionato importante, credo che siano 19 risultati utili consecutivi, perso la prima. Quindi nutriamo grande rispetto, sapendo che è un derby e noi vorremmo fare un regalo ai nostri tifosi, vincendo la partita, rispettando l'avversario, anche perché la classifica non mente. C'è una partita, delle volte la classifica da una parte veritiera, da un'altra parte ci sono tante situazioni, nel caso nostro che sono successe. La giocheremo a testa alta, come abbiamo sempre fatto. C'è un altro dato confortante, questa serie di risultati utili consecutivi e la sensazione che la squadra abbia trovato una compattezza in queste ultime giornate? Sì, anche su qualche altra partita che non abbiamo ottenuto risultato, la squadra poi non aveva demeritato. È logico che con il risultato positivo c'è più fiducia nei ragazzi, più consapevolezza dei propri mezzi. Si respira nel gruppo, nello spogliatoio, la voglia di far bene e di creare qualcosa di importante per la spalla. Lo vedo, lo percepisco nel quotidiano. Poi vincere aiuta a vincere. Nel caso nostro ci sono tanti risultati positivi, però ci manca quel quid per poter vincere le partite. Il pizzico di essere un po' più cinici in sottoporta, che poi vuol dire tutto, vuol dire niente. Però credere anche su una palla che un giocatore crede di non arrivare. Io spesso dico ai ragazzi che il difensore la deve pensare pessimisticamente, l'attaccante ottimisticamente. Quindi credere su quella palla, magari arrivi prima dell'avversario e fai gol. Bucchi è arrivato da poche ore, Edira l'abbiamo già visto, seppur per una spezzone di partita in campo a Pesolo. Che minutaggio possiamo pensare che possono avere questi due ragazzi, eventualmente nella partita di domani? E anche potremmo rivedere Antenucci con una maglia titolare? Allora parto da Edira, Edira è un ragazzo che sta con noi da, se non erro mai, da un mese, 20-25 giorni, che si sta allenando e domenica è entrato col piglio giusto. Si vedeva che voleva spaccare il mondo il ragazzo, perché giusto così era fuori da un bel po'. Quindi può anche giocare. Per quanto riguarda Marcel Buckel, un ragazzo che ha scelto la SPAL, ha fatto di tutto per venire alla SPAL, è un acquisto del direttore. Dobbiamo valutare bene, anche per rispetto del gruppo, quindi ha fatto un allenamento con noi. E quindi ad oggi non riesco a dire quanti minuti ha nelle gambe. Però è un giocatore che potrà far crescere tanto questa squadra e anche i giovani che abbiamo in seno alla squadra. Mirco Antenucci, come tutti i giocatori di questa squadra, può partire dall'inizio, come può subentrare. Quindi ho detto sempre che in questo periodo ancora di più la strategia di squadra nelle scelte è importante. Quindi le valutazioni vanno fatte in base a chi giochiamo e chi può essere più utile quando entra da subentrante o da chi può partire dall'inizio. Quindi è uno dei giocatori che è a disposizione, ragazzo serio, sappiamo chi è Mirco Antenucci. Quelle volte che non gioca o gioca poco Antenucci ha lo spirito importante durante la settimana. Dico sempre che la parola conduce, l'esempio trascina. E quando si trascina con l'esempio è importante per tutti. Pallavolo adesso è ufficiale l'arrivo in casa a Quattro Torri Ferrara dello schiacciatore 22enne Lorenzo Maretti. La società ferrarese è pronta a rafforzare il posto 4 con l'atleta Ravennate che nonostante la giovane età ha già militato in Serie A3 e in Superlega. L'arrivo di Maretti in squadra va a supporto del nuovo obiettivo che la società si è data dopo la prima parte del campionato ovvero chiudere primi in classifica. E ora passiamo al basket Serie A2 100 di scena a Nardò in Puglia domenica alle 18 per tentare la risalita. In classifica ma non sarà facile come ha detto l'allenatore Meccacci che sentiamo. Quando si perde è chiaro che di problemi ce ne sono in ogni dove, nel senso che alla fine è chiaro che è una banalità come vincere aiuta a vincere, perdere non aiuta sicuramente a trovare gli equilibri e la chimica. Detto questo ovviamente ci sono delle responsabilità, questa è evidente, le responsabilità non sono in questo momento secondo me il fulcro su cui verte la nostra attenzione generale, ma in questo momento la nostra attenzione generale diciamo così verte di più sul fatto di provare ad uscire da questa situazione oggettivamente complicata. La partita di domenica rappresenta un'occasione come lo rappresentano tutte le partite. Chiaramente dovremmo cercare di avere un altro tipo di atteggiamento soprattutto in trasferta, soprattutto contro una squadra arrabbiata da una prestazione sicuramente non nelle loro corde come quella di Nardò ad Orzinovi. Però noi siamo concentrati su noi stessi, è chiaro che in questo momento facciamo fatica, facciamo fatica come continuità, facciamo fatica anche come coralità e quindi dobbiamo cercare attraverso il lavoro in palestra che è l'unica cosa che possiamo realmente controllare di fare quadrato e fare gruppo. La società ha preso una decisione importante, è chiaro che la società si aspetta una prestazione diversa nella partita, nella prossima partita, ma mi sento di dire che tutti noi, io per primo, ma la squadra eccetera, si aspetta di fare una prestazione diversa, perché sennò altrimenti è un problema. Nardò rimane una squadra nonostante venga da un periodo complicato, perché anche lei nelle ultime 6 o 7 partite ha fatto solamente una vittoria casalinga contro Cividale, è storicamente per noi un avversario difficile, quindi ripeto, dovremo cercare di lavorare su limitare la loro produzione offensiva, perché chiaramente in questo momento se subiamo 90 punti non vinciamo mai né fuori casa, né tantomeno in casa come è stato contro Lini. E con questo è tutto, grazie e arrivederci. Grazie a tutti.